buongiorno carissimi amici benvenuti anche oggi ad una nuova puntata della telenovela tartarugherman vediamo un po cosa fanno le nostre tartarughe in questi giorni di autunno allora qui ci sono delle belle foglie di malva no ma qui c'è qualcuno che invece di mangiare vorrebbe fare dell'altro allora lei ormai la conoscete e la nostra carissima titina è la mamma di tutte le tartarughe nonché nonna bisnonna trisavola e quant'altro e lui invece è mister x ciao mister x mister x in missione prima dell'etargo vediamo se riusciamo un po a distrarre mister x in missione prima dell'etargo con qualche foglia di malva mister x c'è la malva secondo me non gliene potrebbe fregare di meno mister x la malva e forse ce l'abbiamo fatta e per ora Grazie a tutti. E ormai qui siamo nella stagione autunnale, gli alberi non hanno più le foglie, però le nostre tartarughe inaspettatamente hanno ancora appetito e allora noi ne approfittiamo per nutrirle un po' prima dell'etargo. Tanto andiamo a fare un giro e cercare le altre. Allora, qui c'è una nostra bella tartarughe che dorme, qui un'altra che si è rintanata però quasi quasi vorrebbe uscire e le altre sono sparse. Un po' dappertutto, qualcuna si è già interrata e qualcun'altra invece è ancora sveglia. Va bene carissimi amici delle tartarughe, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche questa mattina in questa puntata della Terenovelas Tartarugher Manni. Vi mando un caro saluto, vi auguro una buona giornata e ci rivediamo domani mattina puntuali alle 8 per una nuova puntata. Buona giornata a tutti.